Buonasera a tutti, good evening to everyone. Grazie. 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 alla scuola, ci sono tutti i link a cui ci saranno tutti i link fra i commenti per raggiungere il sito e chiedere direttamente alla scuola, oppure via email o telefonando, quindi vi chiedo di chiedere direttamente a loro e non a me. Io vi rispondo solamente a domande tecniche linguistiche, non domande di questo tipo, non domande di certificazione, quindi chiedo scusa Francesca. Per rispondere a Pami che mi chiede cosa stia facendo, dico che sto aspettando che arrivi un po' più di gente, siamo adesso in tutto 35, so I'll wait for a few more, maybe a couple more minutes before we begin with today's lesson. Il corso B, che quindi parte da argomenti di B1 e termina con argomenti di B2, anche un po' un B2 più. Parte dalla seconda settimana di novembre, tutti i corsi partono la seconda settimana di novembre e i livelli B si terranno due volte a settimana, il lunedì e il mercoledì, dalle 18.30 alle 19.00. Ecco, Francesca Giacobbi, ecco qui, già su Facebook è stata pubblicata, già è stato pubblicato il link a cui accennavo poco fa e a breve verrà pubblicato anche su YouTube. Oggi livello P vediamo quattro tempi verbali, il passato perfetto, il passato perfetto, Sì, e poi appunto i tempi del condizionale. Livello C uguale, stessi orari, sempre 18.30-20, due volte a settimana, però di martedì e giovedì. Naturalmente il corso non nasce come preparatore per l'esame, però ovviamente ci saranno, soprattutto le ultime lezioni, indicazioni su come svolgere meglio l'esame, come affrontare meglio l'esame e gli esercizi che verranno dati man mano, di volta in volta, durante il corso, dopo ogni lezione, saranno anche mirati all'esame. Allora, a partire dalla seconda settimana di novembre, lunedì, martedì, giovedì e venerdì, ci saranno i seguenti orari, 18.30-20. Il lunedì e il mercoledì saranno dedicati al livello B e il martedì e il giovedì saranno dedicati al livello C. Il venerdì, dedicato al livello A, sono invece due ore, 18.30-20.30. Quindi due lezioni a settimana da un'ora e mezza per i livelli B e C, una lezione a settimana per il livello A, però da due ore. Ok, siamo quasi 50, sono le 19.09. Possiamo cominciare. Condivido lo schermo. È tutto pronto? Sì. Dal momento in cui condivido lo schermo e passo alle slides, io non vedo i commenti, quindi se qualcuno ha delle domande, vi chiedo scusa e aspettate che io torni alla pagina dello stream, così che io possa vedere i commenti appunto. Sì, sì, ci saranno, sì, per rispondere brevemente, ci saranno simulazioni della prova orale durante il corso e poi ci saranno anche simulazioni della prova di lettura come esercizio a casa. Ci saranno anche simulazioni di prova d'ascolto sia durante la lezione sia come esercizio a casa. Allora, cominciamo. Dunque, quello di oggi è un'anticipazione del corso di livello B. Come ho detto altre volte, proprio come era la settimana scorsa, anche oggi, quello che vediamo oggi è quasi una delle lezioni che verranno poi presentate durante il corso, a differenza invece delle lezioni che ho fatto qui in diretta del livello A, che erano cose che non ripeterò perché sono proprio base, base, argomenti che non voglio, se non strettamente necessario, dover trattare di nuovo durante il corso. Invece, gli argomenti di livello B e di livello C, quindi domani e la settimana scorsa, sempre il venerdì, sono delle lezioni che verranno tenute veramente durante il corso. C'è un test ingresso, però anche se superaste il test ingresso e vi desse il livello C, assicuratevi di conoscere bene tutti gli argomenti precedenti. Gli argomenti del livello A sono i seguenti, dimostrativi, possessivi, gli averbi di frequenza, comparativi e superativi, sostantivi contabili e non contabili, gli imperativi e l'uso dell'imperativo, i due modali can e could e il semimodale have to, le preposizioni che sono, le preposizioni è l'argomento più importante di tutto il livello A, poi i tre tempi verbali, il presente semplice, presente continuo, futuro semplice, l'uso del gerundio, eccetera. Insomma, questi argomenti qui verranno dati per scontato, per chi parte già dal livello B. Quindi, se doveste avere dei dubbi, prima di iniziare il livello B, insomma, queste sono le cose che dovete ripassare, perché non verranno ritrattate durante il corso il livello B. Invece, il livello B, vediamo l'uso dei cosiddetti zero, primo, secondo e terzo condizionali, cioè i periodi ipotetici, poi i tempi verbali, il presente perfetto, presente perfetto continuo, passato semplice, passato continuo, che abbiamo visto la volta scorsa, e il passato perfetto che vedremo oggi, poi il passato perfetto continuo, il futuro continuo, il futuro perfetto, il futuro perfetto continuo, il condizionale, non l'ipotetica, il modo condizionale, quello che in italiano sarebbe il modo condizionale, quindi sia il passato che il presente, che è quello che vediamo anche oggi, poi tutti gli altri modali, should, must have to, might, may, will, should, have, might have, can't have, needn't have, e chi più ne ha più ne metta, che è la parte più pesante, invece, come le proposizioni erano la parte più tosta del livello A, l'uso dei modali sarà la lezione più impegnativa del livello B, l'uso dei modali di deduzione al presente, invece quelli al passato si vedranno al livello C, l'uso del discorso indiretto, una prima panoramica del passivo, e poi l'uso delle relative, che probabilmente proporrò domani per le lezioni di livello C. Sto usando molto degli argomenti di livello B per queste lezioni dirette di livello C, perché la grammatica solo riservata a livello C è in realtà poca, quindi non volevo togliermela tutta. In realtà ancora non ho deciso cosa faremo domani, ho delle varie opzioni da valutare, forse il congiuntivo, vabbè, comunque non importa, domani sarà un altro giorno. Quindi appunto, se non conoscete tutte queste cose qua, voi, già alcune persone, l'ho visto che l'hanno scritto nei commenti, iscritte a livello B, non vi preoccupate, perché questi sono gli argomenti che tratteremo durante il corso. Quindi incominciamo dal passato perfetto. Come avevo già detto la volta scorsa, i tempi perfetti sono quelli retti dall'ausiliare avere. Che sia presente, passato o futuro, se c'è scritto perfetto, ci deve andare l'ausiliare avere. A che tempo? In base alla parola che c'è scritta. Se è presente perfetto, l'ausiliare avere va al presente. Se è passato, va al passato. Se è futuro, va al futuro. Semplice. Proprio come il continuo è un tempo retto dal verbo essere, dall'ausiliare essere. Se è continuo, ci va al presente, passato, futuro, l'ausiliare essere. Il perfetto vuole poi il verbo principale al participio passato. Quindi la struttura del passato perfetto è soggetto più had, cioè il verbo avere al passato, più il verbo principale al participio passato. Scusate, una cosa. Ok, sì, si vede, si vedevano bene le sedo, ok. Volevo assicurarmi che fosse impostata bene. Per fortuna abbiamo il nostro grande tecnico che l'aveva fatto per me, il settaggio dello schermo. Allora, quindi, per cosa si usa il passato perfetto? Si usa per azioni che sono avvenute prima di un dato tempo. È il passato nel passato, cioè il trapassato. Che sia un trapassato prossimo, un trapassato remoto, non importa. Proprio come l'altra volta avevo spiegato, che sia il presente perfetto che il passato semplice, in italiano in realtà esprimono la stessa cosa. Possono essere resi sia con il passato prossimo che con il passato remoto, in base a le varie regole dell'italiano, perché il presente perfetto e il passato semplice, ripeto, svolgono la stessa funzione, però in due contesti differenti, in base alle regole grammaticali dell'inglese. Il passato perfetto svolge questa funzione che in italiano può essere resa in base al contesto o con il trapassato prossimo, con il trapassato remoto. Non ci interessa, l'importante è il trapassato. Cioè, se io sto parlando di un qualcosa che è avvenuto ieri, allora uso poi il passato perfetto per parlare di qualcosa che è avvenuto l'altro ieri, rispetto. Quindi è il passato rispetto al passato, quindi ieri. È tutta una questione di punti di riferimento. Come ho detto, soggetto più verbo avere al passato, che è sempre quello, sempre had, più verbo principale a partecipare al passato. Qui ho deciso di utilizzare, come esempio, il verbo irregolare cadere. To fall, fell, fallen. Quindi I had fallen, you had fallen, he, she, it had fallen, we had fallen, you had fallen, they had fallen. Io ero caduto. O io fui caduto, in base al contesto. Io ero venuto per qua, io ero passato per questa via, per questa strada, già una volta prima. Già in passato, già precedentemente. Tu lo avevi avvisato prima che io arrivassi lì. Io sto parlando di quando nel passato sono andato a fare una ramanzina a qualcuno, sono andato in un posto. Prima che io andassi, tu lo avevi avvisato. Quindi prima, passato nel passato, il trapassato. Tu lo avevi avvisato. È importantissimo rendere bene la traduzione, che sia prossimo o remoto, non mi interessa, perché sia trapassato. Kelly had already given away her phone. Kelly aveva già dato via il suo telefono. Poi vediamo perché ho evidenziato already. Noi ci eravamo innamorati senza accorgercene. You had wanted to come here since before I met you. Tu avevi voluto venire qui da ancor prima che io ti conoscessi. They had seen the film already. Loro avevano già visto il film. Ecco, di nuovo, already evidenziato. Questo per mostrare che questo è already still, insomma, varie avverbi possono essere mezzi sia alla fine della frase, come nell'ultimo esempio, oppure fra ausiliare e verbo principale. È indifferente. È una questione, è una scelta di chi parla o scrive. Non è una questione grammaticale. Assolutamente indifferente. Nessuna differenza fra cos'esto o questo. Da un punto di vista grammaticale, almeno. Poi c'è una differenza di senso, però è in base all'intenzione che si vuole esprimere. Come si forma il negativo del passato perfetto? Quindi abbiamo il soggetto seguito sempre da had, poi not, quindi il negativo va fra l'ausiliare e il verbo principale. Quindi I had not fed the dog before going out. Non avevo dato da mangiare al cane prima di uscire. Thomas hadn't thought of the consequences when he quit his job. Thomas non aveva pensato alle conseguenze quando diede le dimissioni. Quando si contrae l'ausiliare con il negativo, succede così. Poi vedremo più nel dettaglio le contrazioni. Jennifer hadn't realized she'd be giving away her freedom. Jennifer non si era resa conto che avrebbe perso la sua libertà, che avrebbe dato via la sua libertà, insomma, che avrebbe perso, rende di più in italiano, anche se non è una traduzione letterale. Melissa hadn't decided whether she would laugh or cry. Melissa non aveva deciso se avrebbe riso o pianto. L'interrogativa. Had più soggetto più verbo, ovviamente al passato, al participio passato. quando si ha un questo mi sembra averlo detto tutta volta, l'interrogativa, la struttura dell'interrogativa si fa in due modi diversi. Quando si ha un tempo composto, appunto come il passato perfetto, composto cioè se c'è l'ausiliare, semplicemente si invertono ausiliare e soggetto. Quando invece si tratta di un tempo semplice, quindi il che sono solamente il presente e il passato, semplice, allora bisogna aggiungere do e chiaramente coniugarlo in base al tempo e alla persona. E si mette poi nella posizione dell'ausiliare nei tempi composti. Quindi sarebbe did I go se fosse passato semplice. Invece qui abbiamo già un'ausiliare, non ci bisogna aggiungere do, si inverte semplicemente l'ausiliare con il soggetto. Quindi I had given it to you. Io te lo avevo dato. Sì, te lo avevo dato. Affermativa diventa had I given it to you. Te lo avevo dato? John had fed the dog before leaving. John aveva dato da mangiare al cane prima di uscire. all'interrogativa diventa had John fed the dog before leaving? John aveva dato da mangiare al cane prima di uscire o aveva John dato da mangiare al cane prima di uscire? You had talked to her before I got the chance. Tu le avevi parlato prima che ne avessi l'occasione. Diventa had you talked to her before I got the chance? Tu le avevi forse italiano ci può star bene parlato prima che ne avessi io l'occasione o ne avessi avuto l'occasione più corretto. Semplice. Inversione ausiliare e soggetto. E il verbo principale rimane lì dov'è. l'interrogativa al negativo. Had soggetto negativo not più verbo principale al participio passato. Quindi I had not given it to you non te lo avevo dato diventa had I not given it to you non te lo avevo dato John adesso lo vediamo con con la contrazione hadn't fed the dog before leaving John had not John hadn't John non aveva dato da mangiare al cane prima di uscire diventa hadn't John fed the dog before leaving quindi la posizione è sempre quella del dell'ausiliare had e il negativo si aggiunge all'ausiliare quindi diventa ausiliare più negativo soggetto partecipi passato John non aveva dato da mangiare al cane prima di uscire John non aveva dato da mangiare al cane prima di uscire giusto è interrogativa you had not talked to her before I got the chance tu non le avevi parlato prima che ne avessi l'occasione had you not talked to her before I got the chance tu non le avevi forse parlato prima che ne avessi io l'occasione ok dubbi prima di continuare quindi anche non sia attraverso Niente, ok, allora riattivo la condivisione e ritorno sulle slides. Allora, il condizionale presente. Si forma con soggetto più modale, il modale appropriato, che è would, could oppure should. Questi anche sono modali, quindi anche questi verranno visti durante la lezione sui modali. Più il verbo all'infinito, l'infinito base, quindi senza la preposizione to. Quindi cantare, to sing, infinito base, sing. Essere, to be, infinito base, be e basta, senza il to. Adesso vediamo più nel dettaglio la differenza fra questi tre modali. Allora, chiaramente il presente condizionale si usa per azioni che potrebbero avvenire o che qualcuno possiede l'abilità o il permesso di fare. Quindi, I would fly given the chance. Io volerei se ne avessi la possibilità. Allora, would, vedete qui, sottolineato qua, più verbo all'infinito. Eccolo qua. Però perché l'ho evidenziato sia sull'inglese che sull'italiano? È stato evidenziato perché, guardate bene, volerei di suo vuol dire questo, I would fly. Would, diciamo, è lo standard, è la base, è il condizionale semplice. Se si vuole rendere qualcosa in inglese, un verbo in inglese, che in italiano sarebbe al condizionale, proprio quel verbo stesso al condizionale, si usa would. Would poi di suo non si traduce. Would rende il verbo principale che segue, lo rende un condizionale, nel senso e poi nella traduzione italiana. Quindi, io volerei se ne avessi la possibilità. Invece qui che succede? You could forgive him just this once. Qui è evidenziato solamente could, non forgive. Perché, in inglese, lo potresti perdonare solo questa volta. Forgive, to forgive è perdonare. Però vedete, perdonare non è al condizionale. Perdonare è all'infinito. In italiano abbiamo utilizzato il verbo servile, potere. Il could è il potere al condizionale. Quindi non è lo perdoneresti, è lo potresti. È il verbo potere che va al condizionale. Lo potresti perdonare. Poi il verbo principale segue all'infinito. Stesso discorso per should. Dovrebbe vergognarsi di ciò che ha fatto. Come could è il potere al condizionale, should è il dovere al condizionale. In questo caso, poi, sulla lezione dei modali si vede più nel dettaglio quali sono gli altri usi di could e should. Però, in questo ambito, could è il potere ipotetico al condizionale, should è il dovere. E il verbo principale, che sarebbe to feel ashamed, è vergognarsi, va sempre all'infinito, proprio come andava qui. We could feed the dog before leaving for the show. Potremmo dar da mangiare al cane prima di uscire per andare allo spettacolo. Sempre feed the dog. To feed è, vuol dire dare da mangiare. Quindi, dar da mangiare all'infinito. Il condizionale sta su potere. You should get help. Seriously. Dovresti farti aiutare, davvero. To get help, vuol dire farsi aiutare, sia fisicamente, però anche da un punto di vista psicologico, come si capisce da questa immagine. di sicuro quest'uomo ha molto bisogno di aiuto, ma da uno bravo, che è il senso di questa frase. You should get help. Seriously. They would give you permission to talk, sure, but I won't. Loro, essi, sarebbe più corretto, ti darebbero il permesso di parlare, certo, ma io no. Ecco, quindi siamo tornati al primo caso, all'uso di would. They would give, e quindi loro ti darebbero. Il verbo gave, chiaramente, dare. Quindi would, più verbo all'infinito, è il verbo stesso che si mette al condizionale. Could e should, invece, sono rispettivamente il potere e il dovere al condizionale, seguiti poi dal verbo principale, al, sempre all'infinito, anche in italiano. Il negativo. Soggetto, modale, not, verbo. Chiaramente not, diciamo, il negativo standard, potrebbe essere anche never, nel caso. Abbiamo fatto l'ultima volta, proprio la lezione fra, la differenza fra never e ever, e fare attenzione a non ripetere il, a non mettere un doppio negativo in una frase. Quindi, I could not eat another bite. Non potrei mangiare un altro boccone. Thomas would not come even if he asked him. Thomas non verrebbe nemmeno se glielo chiedessi. We should not all go to see him in the hospital. Non dovremmo tutti andare a trovarlo in ospedale. semplice, non c'è altro da aggiungere. Se si capisce la slide precedente, questa è la stessa cosa, però al negativo. Le contrazioni. Facciamo una breve pausa sulle contrazioni prima di procedere. Si scrive pronunciare non tanto spesso, non è una regola, è diciamo una questione di uso, poiché ited è un pochino difficile sulla lingua, diciamo, si tende a non contrarre had con it. Ma non è una regola, si può fare benissimo. We had we'd, they had they'd. Non ho ripetuto i you, perché chiaramente è uguale. Però c'è una piccola cosa. I would si contrae I'd. You would si contrae you'd. He would si contrae he'd. She would she'd. It would, di nuovo ited. We would we'd. They would, sì, you would you'd. They would they'd. Sono la stessa identica cosa in contrazione. E allora come si fa a riconoscerli? Ah sì, would, ah, il negativo. Would not, wouldn't. Should not, shouldn't. Chiaramente. E could not, couldn't. Quindi abbiamo visto I'd e I'd sono la stessa cosa. You'd, you'd, uguali. Si riconoscono da quello che segue. Vediamolo meglio. Quindi se troviamo un I'd, you'd, he'd, we'd, quello che è, è un passato perfetto o è un condizionale? Quindi è I had o è I would? I'd gone away. Questo è I had gone away. He'd given it to him. Lo aveva, lo avevo, lo aveva, scusate, ho sbagliato a scrivere, egli lo aveva dato a lui. I had drunk before driving. I'd drunk before driving. Avevo bevuto prima di guidare. Invece questo è I'd give it to you if it were mine. Te lo darei se fosse mio. He'd like to help you but I can't. Vorrei, scusate, scusate, he'd like to help you but he can't. sì, avevo cambiato delle cose e poi non le ho cambiate tutte. Vorrebbe aiutarti ma non può, chiaramente. Inizialmente avevo messo tutto con la prima persona poi ho deciso di mettere anche la terza persona per mostrare che non è una cosa inerente sulla prima persona però poi non ho modificato tutto. I'd look at it but I don't have the time. Lo guarderei ma non ho tempo. Allora si distingue il passato perfetto dal condizionale in base al verbo che segue se segue un participio passato gone, given, drunk per forza lo deve precedere il verbo avere. Il verbo avere regge il participio passato. Invece se è un ad seguita dall'infinito allora è condizionale perché condizionale si forma modale più infinito. Anche qui è interessante questo his. Come il passato perfetto ecco io è per questo che quando spiego grammatica non faccio mai non metto mai le contrazioni o almeno non inizialmente perché chi non ha ben chiara la grammatica può confondersi come abbiamo appena visto il passato perfetto con il condizionale. Stesso problema si può si può presentare con la solo la terza persona singolare nel 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 presente del verbo essere e del verbo avere perché he is e he has entrambi si contraggono con he is she is it's insomma tutte e tre le persone della terza persona singolare quindi è il verbo essere o è il verbo avere he is going away sta andando via she is giving it to him lo sta dando a lui o lo darà a lui perché il 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 presente continuo si può utilizzare anche per rendere il futuro he is drinking before driving sta vivendo prima di mettersi alla guida she's given it to him lo ha she's given it to me lo ha dato a me he's never been like this non è mai stato così it's got so out of hand i can't do anything anymore è sfuggito talmente tanto di mano che non posso più fare niente come prima bisogna aver ben chiaro la grammatica il verbo al continuo going giving drinking è retto dal verbo essere quindi questo per forza è he is she is he is per forza invece il participio passato è retto dal verbo avere quindi questo per forza è she has he has it has quindi quando vedete le contrazioni dovete guardare il verbo che segue infinito participio continuo e da lì si deduce che cos'è il verbo ausiliare che è stato contratto ok andiamo avanti sulla forma di domanda del condizionale stesso discorso dei tempi dei tempi composti composto non è per forza l'ausiliare è semplicemente quel qualcosa in più non abbiamo solamente soggetto e verbo principale abbiamo un extra che può essere l'ausiliare o può essere un modale would could should più soggetto quindi che si invertono più verbo chiaramente all'infinito perché abbiamo visto già il condizionale si fa con il verbo principale all'infinito quindi you would come with me tu verresti con me tu verresti con me inversione would you come with me verresti con me John should feed his dog before leaving John dovrebbe dar da mangiare al suo cane prima di uscire should John feed his dog before leaving John dovrebbe forse dar da mangiare al suo cane prima di uscire I could eat the last slice io potrei mangiare l'ultima fetta could I eat the last slice potrei mangiare l'ultima fetta questo è sia un condizionale in senso mi sento già pieno chissà potrei potrei mangiarla ce la farei non lo so perché sto già scoppiando oppure può essere una domanda posso mangiarla io quindi non per forza in questo caso si dovrebbe tra loro condizionare volendo è già più potrei per favore mangiare l'ultima fetta di nuovo l'uso di could gli usi di could li vedremo più nel dettaglio nella lezione sui modali interrogativa negativa modale più soggetto più negativo più verbo principale he would not come with me non verrebbe con me diventa would he not come with me non verrebbe con me john should not feed his dog before leaving john non dovrebbe dar da mangiare al suo cane prima di uscire should john not feed his dog before leaving non dovrebbe john dar da mangiare al suo cane prima di uscire e i could not eat the last slice io non potrei mangiare l'ultima fetta could i not eat the last slice o couldn't i abbiamo visto nella contrazione il negativo si aggiunge direttamente al modale could i not eat the last slice non potrei io mangiare l'ultima fetta ora il passato è soggetto più modale più avere cioè cos'è questo avere? è il verbo è l'ausiliare avere all'infinito quindi non voglio vedere un has quello sarebbe avere al presente la terza persona singolare questo è avere all'infinito base perché il modale questa è una regola di tutti i modali i modali reggono l'infinito quindi se c'è un modale poi segue un verbo questo per forza è all'infinito adesso il verbo principale poiché c'è già have non è più all'infinito perché è have che è l'ausiliare che prende il posto del verbo principale nella sua forma quindi all'infinito il verbo principale poiché l'ausiliare è have va al participio passato have regge il verbo principale al participio passato regola fissa quindi questo è sempre come dire condizionale perfetto abbiamo detto all'inizio perfetto uguale ausiliare avere come va messo bisogna vedere appunto come va messo se è al presente passato coniugato più verbo principale al participio passato sempre si usa per azioni che sarebbero potute accadere vedete questo già di suo qui questo è passato condizionale could have happened could ecco il modale più have appunto il verbo avere all'infinito e happened è il participio passare di passare participio passato di to happen accadere succedere happened 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 chiaramente verbo regolare quindi I would have flown given the chance io avrei volato se ne avessi avuto la possibilità in base al contesto potrebbe essere anche un un misto però mi avrei volato se ne avessi avuto la possibilità comunque più corretto andrebbe modificato you could have forgiven him if you had wanted to lo avresti potuto perdonare scusate all'ultimo momento ho portato delle modifiche che non ho corretto fino alla fine lo avresti potuto perdonare se avessi voluto è la traduzione solo questa volta era del presente he should have felt ashamed of what he had done ah questa è giusta ok avrebbe dovuto vergognarsi di ciò che aveva fatto quindi should have felt avrebbe dovuto we could have fed the dog before leaving for the show avremmo potuto dar da mangiare prima di uscire per andare allo spettacolo you should have got help seriously avresti dovuto farti aiutare davvero e they would have given you permission to talk sure but I wouldn't have loro ti avrebbero dato il permesso di parlare certo ma io no ma io non te lo avrei dato quindi come abbiamo visto prima durante il presente condizionale qui quando si usa would tutto è evidenziato perché il verbo principale che va direttamente messo in italiano al condizionale chiaramente il condizionale passato di volare è avrei volato avresti volato eccetera invece qui no questo non è forgive al condizionale forgive va all'infinito è could have è potere che va al condizionale passato quindi avresti potuto più perdonare avrebbe dovuto più vergognare all'infinito vergognarsi in questo caso perché è riflessivo quindi should have felt stesso discorso di prima il negativo soggetto più modale più not più have chiaramente più verbo ovviamente è passato ha partecipato passato I could not have eaten another bite if I'd wanted to if I'd if I had wanted to non avrei potuto mangiare un altro boccone anche se avessi voluto anche non è scritto in inglese però ci può stare in italiano Thomas would not have come even if you had asked him Thomas non sarebbe venuto nemmeno se glielo avessi chiesto we should not all have gone to see him in the hospital non saremmo dovuti tutti andare a trovare l'ospedale semplice e come ho detto poco fa se si è capita la parte precedente si capisce questo le contrazioni would have would have should have should have could have would not have wouldn't have should not have shouldn't have could not have shouldn't have ora sentite bene il suono questo would have should have could have questo questa contrazione del verbo avere a volte sembra può nel parlato sembrare of tant'è che esiste questa forma usata dai madrelingua would should could of piuttosto che would should could have quindi I could have gone to help him piuttosto che I could have gone to help questa è una cosa che si trova che viene utilizzata da madrelingua stessi non vuol dire che sia corretto è uno degli errori più brutti più insopportabili che una persona possa incontrare sinonimo di grandissima ignoranza solo perché al suono sembra quello no vuol dire che non conosci la tua grammatica questo è un errore madrelingua come avevo già detto a una lezione precedente non so se molto probabilmente sempre quella di livello B forse no forse era quella di livello A quando parlavo delle sì è quella di livello A quando parlavo dei pronomi personali questi errori qua proprio di grammatica sono errori che difficilmente vengono commessi da uno straniero che ha studiato la lingua sono gli errori che che vengono fatti dai madrelingua che non conoscono la propria grammatica quanto la conosce uno straniero perché quando una persona si approccia a una lingua straniera si studia la grammatica e poi parla invece con quando la lingua è la propria ci si cresce in mezzo la grammatica non sempre viene studiata in maniera accurata e avvengono disastri ambientali di questo tipo da evitare assolutamente solo perché l'incontrate se vi fate una ricerca su youtube su facebook dove già siete su pagine o canali in lingua inglese vi assicuro vi capiterà per fortuna non chissà quanto spesso però può capitare di trovare roba del genere solo perché aveva detto madrelingua scriverlo non vi venga in mente che allora sia giusto e l'ha detto madrelingua allora è così no è un errore orribile da estirpare quindi prestateci attenzione sì lo mi ha lasciato pesante su quello però è una delle cose più brutte che si possono vedere nell'inglese quindi veramente evitatelo prestateci attenzione allora andando avanti forma di domanda più soggetto più have più verbo chiaramente si inverte sempre il soggetto con il modale quindi you would have come with me saresti venuto con me all'interrogativa diventa would you have come with me saresti venuto con me john should have fed his dog before leaving john avrebbe dovuto dar da mangiare al suo cane prima di uscire diventa should john have fed his dog before leaving avrebbe john dovuto dar da mangiare al suo cane prima di uscire i could have eaten the last slice io avrei potuto mangiare l'ultima fetta diventa could i have eaten the last slice avrei potuto io mangiare o avrei potuto mangiare io l'ultima fetta interrogativa sempre la regola è sempre quella si inverte l'extra con il soggetto se non c'è l'extra si aggiunge il verbo to do ora l'interrogativa scusate interrogativa al negativo modale più soggetto più negativo più avere all'infinito più verbo al participio passato non sarebbe venuto con me diventa non sarebbe venuto con me john should not have fed his dog before leaving john non avrebbe dovuto darla mangiare al suo cane prima di uscire diventa should john not have fed his dog before leaving shouldn't john have fed his dog before leaving non avrebbe dovuto john dare la mangiare al suo cane prima di uscire e i could not have eaten the last slice non avrei potuto mangiare l'ultima fetta diventa could i not have eaten the last slice non avrei potuto io mangiare l'ultima fetta fine ci sono domande non avrei potuto non avrei potuto non avrei potuto po Ci sono dubbi, incertezze su ciò che ho appena spiegato? Grazie a tutti. Quali due lezioni? Tutte le lezioni, le tre della settimana scorsa e le tre di questa, quindi manca quella di domani per fare tre, rimangono qui sulla pagina. Anzi, se qualcuno si dovesse iscrivere al corso di livello A, dicevo, farebbe bene a guardarsi le lezioni che abbiamo visto ieri e la settimana scorsa, di mercoledì, proprio perché quegli argomenti, se non specificato lì per lì, non verranno riproposti durante il corso. Invece la lezione di oggi fa parte del corso, la lezione di domani fa parte del corso. Allora, qui ho una bella domanda. Ha rotto, I would fly con io volerei? Potrete ragurarlo anche con io vorrei volare? No. Un attimo che trovo la slide giusta. No, non è proprio la stessa cosa, allora lo dico. Allora, voler fare qualcosa, al condizionale, vorrei fare qualcosa, I would like to, è il verbo like to. Do, in questo caso volare, quindi I would like to fly. Would più infinito vuol dire, è il verbo principale, in questo caso volare, direttamente al condizionale. Io volerei. Esatto, Francesca Giacobbi. I would like to fly. Chiaramente si può, senza problemi, contrarre I'd like to fly. Da non confondere con I'd liked to fly, che sarebbe I had liked to fly. Mi era piaciuto volare, anche se in realtà no, I had liked flying, sarebbe più corretto. Mi era piaciuto volare. Vabbè, quell'altra cosa. Però, insomma, da non confondere passato perfetto con condizionale. Attenzione alla maiuscola, eh. I va sempre al maiuscolo. Anche quando si batte velocemente sulla tastiera. Anche quando si batte velocemente la tastiera. I'd want to fly, sì. Perché la differenza è che I would like to fly è proprio un'espressione, una formula per dire vorrei fare qualcosa. Invece I'd want to fly non è altro che il verbo want al condizionale. Che, alla fine dei giochi, il risultato è quello. È come dire 4 uguale 2 più 2 oppure 3 più 1, sempre 4 fa. Però cambia la struttura grammaticale che si è utilizzata. Want all'infinito, preceduto da I would. I would want to fly, io vorrei volare. Sempre, io vorrei volare è. All'infinito, preceduto da I would. All'infinito, preceduto da I andré. Allora, rispondo prima qui che è più veloce, sì, volendo si può utilizzare senza problemi. L'altra, la forma I would like to è più utilizzata proprio perché è una formula che appartiene proprio alla lingua inglese, quindi si tende a utilizzare. Però, come ho detto prima su un altro argomento, è una questione di scelta del parlante o di chi scrive. Grammaticalmente sono entrambe la stessa cosa, come risultato, non di struttura grammaticale. Allora, invece adesso rispondo a Silvana. Bentornata, Silvana. Avevo detto, all'answer in English, since he tried to ask the question in English. The C-level course will be mostly in English, much more compared to the other two courses, for the simple reason that there is more time. When I explain grammar, I do so in Italian. Because I need to make sure that it's perfectly understood by my students. However, the grammar part for C-level is not that much. So, in six to seven lessons, maybe, out of 20, the grammar will be finished, which leaves me the final, more than half of the lessons. Let's say, it leaves them free for me to really practice English. As opposed to C-level, to level C, the level B class is packed with grammar. As you saw at the start of today's lesson, when I showed the program at the beginning, the B-level is full of grammar. It'll take most of the course to go through all of that grammar. And this leaves us less time to properly speak and practice our speaking. It's a matter of time, nothing else. And, anyway, at the end of the course, the level B starts from B1 and ends at B2. So, if you have the skills to achieve an exam to level B2, at the end of the course B. So, for further details on the exam, visit the website and ask you directly to the school. Spero che quello che ho detto in inglese sia stato chiaro. E' anche per questo che parlo più in italiano, perché comunque chi arriva già da un B1, chi è un B1 non per forza capisce sempre tutto. Chi è un C1? Un C1 vero, eh? Non uno che si iscrive al corso di C1, ma poi in realtà a un A2 è scarso. No, no. Uno che sia davvero un C1. Già l'inglese è più in grado di sostenere una conversazione in inglese. Ok, sono le 20 e 6. Se non ci sono ulteriori domande, io chiuderei qui la diretta e ci vediamo domani per il livello C, perché ci sarà. Parte dalla seconda settimana di novembre e dovrebbe finire intorno a metà gennaio. Sono... Sono dieci settimane. Quindi con le feste di mezzo, insomma, il calendario, però anche quello è tutto sul sito, ma sono dieci settimane. Quindi sono dieci lezioni per il livello A, da due ore, e venti lezioni, ciascuna da un'ora e mezzo, per i livelli B e C. Quindi trenta ore di livello C. Sì, trenta ore. Sono un attimo confuso, la stanchezza della giornata. Sì, sono trenta ore, sì, perché sono tre ore a settimana, due lezioni da un'ora e mezza, quindi tre ore, dieci settimane, sì, trenta ore. In sette, otto ore massimo si finisce la grammatica di livello C. Quindi per completare la domanda da Silvana, ecco perché c'è più inglese, la più conversazione inglese a livello C rispetto a livello B. Ok, allora, buona serata a tutti. Good evening to everyone. Good night. And see you tomorrow. I will now end the broadcast. Good night.